ciao a tutti avete smaltito il cenone di natale spero di sì la cenone del 24 il pranzo di natale il pranzo del 26 qualunque pranzo abbiate fatto io ho fatto il 25 il 27 morendo credo se l'avete smaltito è tempo di farlo se non l'avete smaltito è tempo di farlo con un gioco sportivo ve l'avevo annunciato potete vedere qui il mio bel faccione si parte con una serie su football manager 2018 una serie che era un sacco di tempo che volevo fare era un sacco di tempo che pensavo addirittura una serie che inizialmente volevo fare sul forum scritta e che invece vengo a farvi qui sul canale una serie di football manager che partirà come vi ho già detto dopo l'epifania ci saranno due piccoli episodi introduttivi il primo è questo in cui vi parlerò velocemente del gioco e creeremo il nostro allenatore il secondo sarà invece un vero e proprio trailer minchia sto quasi diventando una roba seria no no ovviamente sarà un piccolo trailer che uscirà se tutto va bene la prossima settimana allora velocemente vi parlo di come si svolgerà il gioco noi guideremo me stesso noi guideremo e il kudo noi guideremo il kudo come sono io veramente con le mie capacità le mie non capacità e lo guideremo a partire ad essere un piccolo allenatore di una piccola squadra sperduta in giro per il mondo a iniziare un vero e proprio gran tour in giro per il mondo tra squadre piccole grandi medie non importa voglio esplorare il mondo il calcio e farlo divertendomi e spero divertendo anche voi spero ogni volta di raccontarvi qualcosa su cosa vuol dire il calcio magari scoprirlo anche io in in giro per il mondo la prima squadra da cui partiremo è molto legata alla storia questa sarà una partita molto gdr ve ne parlerò poi dopo quando parleremo dell'allenatore ebbene una squadra una partita molto legata alla storia una partita che inizierà da una squadra in uno stato molto specifico e molto strano per parlare di calcio vi darò durante questo video tre indizi per provare a indovinare qual è questo stato qual è questa squadra durante il trailer ci saranno altri indizi indizi in realtà visivi e spero meglio sono curioso di vedere se qualcuno di voi indovinerà lo stato e la squadra il primo indizio che vi do oggi riguarda la nazione di partenza è una nazione molto 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 piccola meno di 200 mila abitanti meno di 200 mila abitanti quindi meno di una nazione di una città di medie dimensioni in italia meno di 200 mila abitanti una nazione di buon gustai di buon gustai non pensate la pensa provate a interpretare questa nazione di buon gustai è una nazione che un pochettino è già morta vorrei dirvi dove è già morta ma forse vi aiuterei troppo provate a pensare di buon gustai è già morta sono dei giochi di parole provate a pensarci questo è il primo indizio il prossimo arriverà dopo nel video adesso facciamo la prima cosa di questo video cioè creiamo l'allenatore e facciamolo per poter parlare di come sarà questa partita andiamo a creare l'allenatore e già perché l'allenatore è la prima cosa importante voglio che questo allenatore mi rispecchi in tutto e per tutto non solo nel nome lo chiameremo ovviamente eikudo ma in quello che so e quello che non so fare nazionalità ovviamente quindi saranno italiani sbagliato la y direi che non mi sembra il ca ma poco caro sono dimenticato come si scrive vabbè scorriamo saremo ovviamente italiani avranno una data di nascita che è la mia stessa 19 novembre 85 ecco qua italiani luogo di nascita esattamente come nella realtà sarà torino perfetto altre lingue parlate come nella realtà anche qui io parlo l'inglese e parlo francese capisco lo spagnolo ma non lo parlo quindi mi sembra esagerato mettere anche lo spagnolo formazioni preferita non ve la dico perché ne parleremo poi nei primi episodi delle formazioni che intendo giocare che saranno un po evolute dalla mia da quello che era l'inizio della mia delle altre partite se avete già visto qualcosa di football manager fatto da me come ad esempio la serie sulla bop italia fc sul forum di bop italia oppure la serie sull'italia di ventura qua sul canale sapete che mi piace sperimentare saranno delle cose derivate da quelle formazioni altre squadre preferite la prima era juventus passate la sono tifoso non se ne esce altre squadre preferite allora in inghilterra andiamo a pescare una delle mie squadre almeno per la storia per la maglia preferite il liverpool anche se anche il manchester united a suo tempo non mi dispiaceva per niente poi 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 andiamo in germania da una squadra che i tifosi juventini non amano particolarmente ma io sì che borussia di dormund il suo westfalen stadium con quella curva gigantesca il muro giallo di fronte di fronte allo stadio e infine una squadra che un tempo giocava in uno stadio che era conosciuto come l'inferno in terra l'alisa mien in turchia in super league il galatasaray responsabilità ne parleremo quando nel primo episodio vi anticipo però una cosa importante noi a inizialmente saremo esattamente come sono io quindi una persona che ha giocato a calcio da piccolo da piccolo qui non immaginate che aveva giocato da adulto assolutamente no da piccolo da bambino giocato a calcio non so nulla di allenamenti so di tattica ma perché seguo il calcio ma non so assolutamente nulla di allenamenti e noi inizialmente saremo così catapultati in una realtà che non conosciamo tant'è che addirittura non ci occuperemo dell'allenamento se ne occuperà il nostro secondo non ci occuperemo della gestione di risoluzione sugli avversari perché non ne capiremo assolutamente niente non ci occuperemo di assunzione personale perché questo non è compito dell'allenatore non ci occuperemo di giovanili perché non avremo il tempo per farlo e ovviamente come detto non ci occuperemo dell'allenamento andiamo avanti con l'aspetto 19 novembre 85 fin qua ci siamo altezza 187 centimetri per 78 kg di peso faccia prendiamo una foto e andiamo a generarla perché voglio giocare una partita del genere voglio giocare una partita del genere perché non so ho sempre visto degli dei racconti delle carriere degli ar basati su una personaggio famoso un ex giocatore un allenatore famoso oppure su personaggi per così dire un po irrealistici che vivono nel mondo del calcio qua se riuscissi a farlo scorrere sarebbe meglio invece voglio provare a fare una carriera immaginando cosa succederebbe a me immaginando una slide indoors immaginando che quest'estate io non sia andato negli stati uniti questo è un suggerimento che vi do non saranno gli stati uniti ma sia andato da un'altra parte e lì mi abbiano affidato una squadra cosa farei in una situazione del genere cosa potrei fare questo è il tipo di carriera che voglio impostare una carriera che sia assolutamente realistica nella nel suo svolgimento che non preveda che io improvvisamente diventi giose murino che non preveda che io diventi pep guardiola ma che preveda che pian pianino impari ad allenare una squadra per vedere che modello viene fuori verrà una porcata lo so già anche perché ho messo gli occhi forse leggermente troppo alti ho messo gli occhi alti vediamo 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 no 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 è venuto bene è venuto bene conferma modello mi piace mi piace cambiamo solo ancora il vestito e gli mettiamo una cravatta rossa che mi sembra un po alla vengher questo vestito un po alla vengher mi piace abbiamo ancora i capelli questi perfetto questo è il nostro allenatore noi inizieremo con un allenatore così un allenatore di cui che alla ad allenare una squadra in una nazione e qua c'è il secondo suggerimento la cui nazionale di calcio ha avuto come miglior risultato nel ranking fifa il 167 il che vuol dire che è bassissimo perché penso che ranking fifa del tipo 210 posizioni non sbaglio il suo miglior risultato è 167 ovviamente non mi dico l'attuale perché sarebbe troppo facile e vi do un altro suggerimento questa nazione ha esordito perdendo 30 a 0 una partita che ancora attualmente la sua peggior partita ma andiamo a vedere tutti i campionati e andiamo a vedere quali saranno i campionati che andremo a caricare questi campionati questi campionati campionati adesso vi farò vedere quali saranno quelli da cui potremo scegliere che saranno molto probabilmente limitati ai primi al primo alla prima serie al limite alla seconda per i campionati principali non andremo troppo nello specifico andiamo a vedere quali saranno i campionati prima vi faccio vedere solamente altre tre opzioni innanzitutto disabilitiamo i budget per la prima finestra di mercato la prima finestra di mercato non si compra le squadre saranno quelle reali quindi la juventus sarà la formazione con cui è iniziato veramente il campionato del 2017 ad esempio così tutte le squadre inoltre noi verremo catapultati in una realtà che non conosciamo in una squadra che sta per iniziare un campionato e quindi non avremo nessuna possibilità inizialmente di comprare giocatori ho disabilitato nascondi attributi che quindi vedremo gli attributi dei giocatori questo per rendere un pochettino più veloce e piacevole seguire questa serie perché altrimenti dovessimo mandare scout vedreste che perserei moltissimo tempo in attesa di poter vedere i giocatori il terzo punto impedisce l'uso dell'edito in tempo reale ma di ovviamente non l'userò questi saranno i campionati che potremmo utilizzare come vedete sono tantissimi ho caricato delle mod che aggiungono un sacco di campionati ho caricato la mod o meglio modificato i file per eliminare i fake quindi non avremo squadre con nomi sballati avremo i giocatori con i nomi giusti avremo le i campionati con i nomi giusti le coppie con i nomi giusti quali nazioni sceglieremo tutte le sceglieremo tutte ovviamente alcune la maggior parte saranno simulate noi sceglieremo tutte queste nazioni cile slovacchia scozia irac marocco guardate quanto ben di dio c'è sceglieremo tutte queste nazioni saranno tutte simulate tranne quelle del luogo dove andremo ad allenare cioè se noi alleneremo in nord america in guatemala tutte le nazioni del nord america saranno giocabili e non simulate ovviamente mano a mano che decideremo di spostarci per il mondo anche secondo le vostre indicazioni anzi soprattutto secondo le vostre indicazioni andrò ad attivare o a togliere altri campionati in modo da rendere il gioco sempre molto veloce quindi sceglieremo tutti questi campionati vi faccio ancora dare un'ultima occhiata perché tra questi campionati c'è quello dove inizieremo ragazzi il terzo e ultimo indizio riguarda la squadra che sceglieremo è una squadra che ad oggi è la squadra che ha vinto più coppe più campionati nazionali della sua nazione eppure non vince nessun campione non vince nulla dal 1984 la sua ultima vittoria e questo mi incuriosisce perché io sono nato nel 1985 quindi da quando io sono nato questa squadra non vince nulla riusciremo a riportarla alla gloria che deve avere riusciremo utilizzarla come un trampolino per crescere lo scopriremo solamente nella serie vi aspetto la prossima settimana con un trailer altre informazioni su quale sarà la squadra e poi dopo il 7 gennaio dall'otto in poi si parte con questa serie di football manager dalle stalle alle stelle almeno speriamo e vediamo fin dove arriveremo spero che vi possa piacere questa serie io non vedo l'ora di giocarla perché è tanto tempo che voglio fare una cosa del genere alla prossima ciao ciao sempre qua su football manager non sarà solo football manager sarà un viaggio intorno al mondo voglio darvi notizie informazioni su tutti i posti dove andremo posti che mi piacerebbe visitare che magari a volte ho visitato già veramente lo faremo con questa serie su football manager 2018 a presto ciao 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 ciao